Ci sono temi ricorrenti nel dibattito pubblico europeo. Uno di questi è la Brexit. La ragione è semplice. Da un lato si sta negoziando delle modifiche al protocollo sull'Irlanda del Nord e su richiesta del governo britannico. Dall'altro perché nel Regno Unito si sono accorti che la Brexit è un disastro, che quegli effetti che potevano inizialmente essere nascosti, camuffati dagli effetti della pandemia, sono in realtà in larga misura gli effetti della Brexit che porta recessione, crisi economica e così via. Insomma in Gran Bretagna ci stanno ripensando. L'opinione pubblica cresce il regret, il rimpianto relativamente alla Brexit e molti chiedono di tornare all'Unione Europea o comunque di trovare degli accordi più favorevoli di partecipazione al mercato unico e così via. Vedremo cosa succederà. Una delle cose che però non dobbiamo dimenticarci è perché siamo arrivati a questo punto. L'Unione Europea ha negoziato accordi con tantissimi stati, c'è chi fa parte del mercato unico attraverso lo spazio economico europeo come la Norvegia e altri stati ex EFTA, c'è chi ha un'unione doganale con l'Unione Europea come la Turchia, c'è chi ha degli accordi commerciali complessivi come il Canada o chi ha invece tutta una serie di accordi specifici separati come la Svizzera. Cioè esiste un menu molto ampio di opzioni per fare accordi con l'Unione Europea. Se non c'è un accordo soddisfacente con il Regno Unito la ragione è una sola, che il Regno Unito non sa che cosa vuole rispetto ai propri rapporti con l'Unione Europea. Ed è chiaro che questo rende impossibile per l'Unione negoziare un accordo reciprocamente soddisfacente. Per prima cosa bisogna che i britannici capiscano, decidano che tipo di rapporti avere con l'Unione. A quel punto non sarà difficile per l'Unione Europea trovare delle forme accomodanti rispetto alle esigenze britanniche che riguardino la partecipazione al mercato unico nella sua interezza o soltanto rispetto a determinati aspetti, all'Unione doganale sì o no e così via. Ma il problema di fondo è che il Regno Unito non sapeva che cosa voleva quando ha scelto la Brexit e adesso rimpiange di averla scelta.